L'Olimpia agnonese viaggerà alla volta di Sant'Arcangelo e di Romagna con un solo obiettivo, tornare in Molise con il bottino pieno. 31esima giornata di campionato nel Gironef, 8 gare compresa quella di domani al termine. Lo scontro diretto contro il giallo-blu potrebbe essere decisivo. La classifica è corta e gli altomolisani sono alla ricerca di punti per abbandonare la zona rossa. Nell'ambiente c'è grande fiducia, la squadra è in forma ed il gruppo è determinato e consapevole di non avere più alibi. Inoltre, il match in programma domani alla portata di Granata potrebbe dare il via ad un positivo rush finale proprio in provincia di Rimini. Ancora due assenze per Foglia Manzillo che dovrà fare a meno di Ribeiro e Salifu. Il primo fermo ai box per scontare il secondo ed ultimo turno di squalifica. Per quanto riguarda Salifu, l'attaccante è sulla via del completo recupero, ma domani resterà in tribuna a causa dell'infortunio che lo tormenta da tempo. Il tecnico Granata potrebbe optare dunque per il seguente 11 in porta a Kuzmanovic, difesa composta da Corbo, Litterio, Albanese e Cassese. Al centro del campo Ricciardi, Peic e Gentile, in avanti Ancora, Formuso e Diarrà. Il mese di marzo terminerà con due gare che metteranno a dura prova gli altomolisani in ordine di tempo contro Savignanese e Iesina. Incontri che porteranno la squadra verso i due derby contro Campobasso prima ed Isernia poi. Con fischio d'inizio alle 14.30, Sant'Arcangelo Limpio Agnonese sarà diretta da Carlo Rinaldi della sezione di Bassano del Grappa, assistenti Alessio Miccoli di Lanciano e Francesco De Santis di Avezzano.